ma salvi a tutti e ben ritrovati in un nuovo video di obscure 2 the aftermath a quanto pare sto ripetendo la registrazione di questo video e spero che questa sia la volta buona perché ho fatto sì e no 5-10 minuti ma perché la sto ripetendo perché sono morto quindi ho detto tanto vale visto che devo ripetere ripeto pure la registrazione anche perché ho perso un po' di tempo e adesso vi spiegherò dove comunque sembrava che avessi finito tutte le munizioni invece ho della dinamite e due colpi per la palestra che metterei qui ho ricaricato prendo la mazza se scendiamo qui la porta è chiusa e di qua invece troviamo le munizioni per il lanciarazzi che io non ho chissà se me lo so perso o ce lo daranno in futuro quindi l'unica via per andare avanti è di qui però qui appaiono queste stronze che ci rompono il ponte oltre che le palle non posso passare e grazie alla telecamera che non mi faceva vedere che dovevo scendere di qui sono stato un bel po' vabbè 5 minuti a cercare un'altra via alternativa invece dovevo scendere di qua con cori perché non sia mai che Shannon mi seguisse solo cori ha le doti atletiche gli altri no e non so come farlo arrivare qua a Shannon qui trovo i proiettili per la pistola prendi le tavole aspetta oh vai affanculo ce ne dovrebbe stare un altro io sono morto con questi grassoni però vorrei usare la pistola volendo potevo usare la palestra però meglio non sprecare l'ultimo colpo ma che tavole dovevo prendere ma per far passare Shannon va che roba ecco questo non l'avevo fatto nella prima registrazione siamo di nuovo nella foresta nel bosco che c'è qualcosa qui no ci fanno solo passare ecco ecco Ma Kenny non ci preoccupare più di più. Cool! Ora, ascolti. Abbiamo escapato alla luce. Stan e il professor hanno contattato a me. Sono lì, su Turtle Stone Island. Abbiamo perduto loro nella foglia. Escapati lì, se puoi. Siamo cercando di sottolineare con Amy. Ok, faremo il nostro meglio. E cosa sta guardando Cory adesso? Ah, era il kit di pronto soccorso. Vorrei sapere qual è la nostra meta. Cioè, ucciso Kenny. Ma siccome secondo me non è morto Kenny. Mi posso curare, secondo voi? Sì, curerei questa. Invece io mi curo dopo. Munizioni per Flashball. Non è possibile vedere all'interno. È troppo buio. È qua? No. Ah, la barca. Un'imbarcazione a peso con la prova verso l'alto. No. Aspettate. Questa porta non si aprirà. Unizioni per il fucile. Allora, allora, allora. sei pronta? Sei pronta? Un'imbarcazione a peso con la base di un'altra. E' un'imbarcazione a due o' la base di un'altra. Un'imbarcazione a due o' la base di un'altra. Ma in che senso? Oh! Ma porca troia! Ok. No! Così! Idiota! Ma sto tornando indietro! Non ci dobbiamo fermare qua! Ma come sto incazza? No! Avanti Cori! Forza con quelle braccine! Ma è di qua che devo andare! Sembra DC! Ce l'ho fatta! Meno male perché non volevo ripetere ancora una volta! Come state messi? Allora io sto benissimo! Lei non tanto! Vediamo le armi! Già non ho più nulla! Ma non si può andare avanti così! Questa dalla me! Questa la do a te! Questa la do a te! No! No! Ricarica! La flashball! Ok! Ok! Si però tu devi avere la pistola immobilizzante! Che io vorrei sapere perché sono venuti qui! Nooo! I ragnetti! Solo questi ci mancavano! Nooo! I ragnetti! Quindi dovrei andare di là! E se qua c'è qualcosa? Ma che! E anche in questa specie di grotta c'è nulla! Eh! Lo vorrei sapere anch'io! Non credo! Sì ma fai qualche cosa Shannon! Non credo! Sì ma fai qualche cosa Shannon! Non credo! Sì ma fai qualche cosa Shannon! Non so dove sto andando! Fumogeno! Ok! Sì ma io dove devo andare! Non è molto chiaro! Ah devo usare la moto sigla di nuovo! Che io non ho! Fai le cose per bene! Perchè qua mi sa tanto di altra boss fight? Vabbè andiamo! Nooo! Nooo! Ecco! Io ti lancio questa! Nooo! Ma l'avrà beccato! Ma l'avrà beccato! Si l'ha beccato! Nooo! Ma ancora vivo! Ma penso che la dinamita l'ha sentita tutta! Nooo ma ancora! Siamo fuori pericolo! Oh! Lì puoi usare la sua tecnica Shannon! Prima ti curi! E non c'è nulla! Qua è tutto bloccato! Una bevanda energetica! Si vabbè tocca a te Shannon! Dove mi devo mettere? Qui? Mi sa che ci vuole prima Corey! Dai! Sì! Chi è la scena si sa che si è affascinata? E non hai arrivato! Sì! Guardami di essere chiunque! Quindi le ha nel sangue! Però che mini gioco scemo Oh, miracolo Sicuramente ve la taglierò Staparte perché Non credo che Vi interessi Tutto lo sniffamento Ma di armi potenti ce l'ho Ma non ce n'ho niente No, ci abbiamo solo le mazze Ma dove siamo? Un'imbarcazione rovesciata Oh Oh, da qua da dove siamo venuti Oh, è un cadàver Ma sì, qua love story a go go proprio Mi fa venire in mente la serie televisiva Doni Crick Semmai Dawson Crick Sarà la versione tarocca No, giù No, giù Su Ecco, su Questa cretina può salire? Sì, ma fai sempre Sì, ma fai sempre vedere le mutandine Shannon E copriti un po' Se Domani Certo è che non sono sceso di nuovo Per rivedere la scena Sia ben chiaro È solo che questa Che questi Non trovano i comandi adatti Vedete? Questa non trova Vai su Oh Bene, ci siamo Qua dovremmo trovare anche gli altri idioti Invece troviamo un punto di salvataggio Possiamo afferrare le solite Sedie Bevande energetiche Anzi una E io salvo Anzi no, aspetta Freccia per arco Che non ho Qui Direi che posso salvare Sì No Perché io clicco Il tasto Per interagire E se clicco vicino al buco Ovviamente Scendo giù Ma direi che qua Non c'è più nulla Oh No I'm fed up Of waiting You were a lot quieter When you were ill Is it the lack Of a female presence That's making you So jittery Shannon You scared me Half to death I'm not a baby Anymore Star I shoot Just as well As you now We can't stay Here any longer We gotta Keep going Che cacchio è successo? In che senso? Ma l'hanno violentata Sì, ma io non ho nulla Mi scusi Oh, se appaiano di nuovo quelle altre stronze Come faccio? Intanto curiamo l'acquista Qua è tutto bloccato Di qui non si può andare C'è il muro invisibile Di qua forse Che poi gli altri Se ne sono andati con un'altra barca Quella che stava rovesciata Dove arrivare lì per caso E' qua Prendi l'imbarcazione Certo che non c'è un attimo di tregua Sì, Sten, stai facendo un po' troppo air provola Che hai visto Se ci sono munizioni Dovevo mandarle di qua Hai visto qualcos'altro? Qui c'è la barca con cui sono arrivati Qui c'è la barca con cui sono arrivati gli altri E qui c'è il cimitero Esamina Cosa devo esaminare? E mi dovrebbe essere in grado di capirci qualcosa Un puzzle? Eh, è da pariva Sì, però non ti bugare adesso Non va bene Non credo vada bene Non credo vada bene Dai che ci sono Oh oh No Ma andava tutto così bene Perché non va? Che manca? Qui? Oh, meno male Il documento ricostituito è stato aggiunto all'inventario Sì, però famme legge Lapide ricostruita Apri la porta del mausoleo E fin qui ci siamo C'è qualcosa prima di aprire la porta Sperando Che non ci siano mostri Oh, guarda Utilizza Non ho capito Non ho capito C'è un nuovo enigma Ah, devo ricreare il disegno che c'è sulla lapide Ci deve essere un modo di spostare questo muro Non so come ho fatto Ma l'importante è averlo fatto Come dico sempre io Ci ho messo un po' Forse un quarto d'ora E sono stato anche fortunato Perché non era affatto semplice C'erano troppe lapide C'erano troppe lapide da spostare Ah, ma qui si può salvare Snack bar di pontoon Prendiamo queste munizioni Intanto Ma una bella casa Vicino a un cimitero Può mai essere bella Questa casa No Dove Mi mancavano si bestioni Aspetta Mannaggia, mannaggia E mo? Ce l'abbiamo fatta Però siamo ridotti una merda proprio E mi sa che ho sprecato un colpo di balestra Comunque per chi non l'avesse riconosciuto Questo quel mostro stava anche in Obscure 1 Però che faceva Wow Ceppi appena tagliati Deve essere abitato laggiù Non c'ho più cuori da succhiare Non c'ho più cuori da succhiare Curiamoci va Ah ma non c'ho più nulla per curarci Ottimo Oh che dice Sempre i ceppi Univalente boschetto Quindi dobbiamo spostare la lavatrice Ma si può entrare dalla porta Principale Bisogna essere un fabbro esperto Per afferrarlo Per afferrarlo Vabbò Per aprire la porta Forse E che è una serra Chi l'avrebbe mai detto Siamo arrivati Un lavandino utilizzato per le piante Dicevo Siamo arrivati Nel posto dove Si creano queste piante Con le spore Eccetera Chi devo afferrare Scusa Ah una cassa Chi ha bisogno di cure Mi sa più lei Uno strano fiore nero Piante un po' accartocciate Ma altrimenti In buona forma Ma io vorrei sapere Chi traduce questi giochi Chi Chi viene pagato Per fare tali scempiaggini Nelle traduzioni Spen Get out of here Amy I'll keep them off Now Amy Spen Cioè ma quello era Il maniaco deforme Che ci faceva là E' lui che coltiva Le piante nere I fiori oscuri Chissà se lo scopriremo Do you want a better reason to fight? Ma perché Perché queste scene Cringe proprio Perché qui La bevanda energetica L'hanno messa solo adesso E prima non c'era No ma quanti ce ne stanno Ma come? La picchi dopo averla baciata? Stan Ma cosa fai? Dove stanno i cuori? It's fine I have a dose of good quality serum I hate needles Abbiamo un ottimo siero Però io ritorneri a ricaricare la pistola Cioè la love story Il suo innamoramento E' il motivo per cui vanno avanti L'amore insomma Ma io direi Che il biologo Potrebbe essere l'antagonista Perché non si trova mai Oh No Io intanto mi curo Cioè perché vanno sempre Invece di fare gruppo Se ne vanno sempre sparpagliati E il biologo non fa un cazzo No perché 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 mi devono complicare la vita Perchè Stan Deve scassinare la porta principale Ovvio Intanto curerei Shannon Eh Non è troppo male Amy e Sven sono ancora vivi Ci hanno bisogno Stan Eh Un attimo Allora Cerchiamo di fare in fretta Questa è stata la serratura più bastarda Forse perché siamo vicini al finale Possibile che non ho nulla Eh no Si può salvare per caso La serratura è veramente arrugginita È impossibile aprire Ah quindi questi sono scarafaggi Ah quindi questi sono scarafaggi Una specie di croce Una specie di croce Ma qui ci vuole cori però Giusto Allora Io però dovrei salvare Libri scientifici Ma sembra che siamo nella casa Di non aprite quella porta La porta è bloccata La porta è bloccata Libri di botanica In ciclopredie Tocca a te Shannon Devi sniffare Questo ripostiglio è serrato Devi sniffare di nuovo Oh stavolta ho fatto più in fretta It's you I almost had a heart attack It's Sven Some kind of deformed freak Capture him ci sono tutti c'è anche il biologo quindi allora non è lui dai una spinta non è lui il villain apriamo qui lanciarazzi ottimo sì però io volevo venire con core dov'è core mamma e papà non verranno più g di dia è tutto solo tutto solo tutti gli altri sono cattivi devo punirli chi è g di dia piglia sta croce aspetta salta no non ci interessa allora sta croce a che serve croce non dice niente non volevo fare questo forse l'armaggio lo posso spostare no sven l'ha catturato quell'altro che mi dici tu ma tu sai fare solo questo che si può fare qui un'altra chiave piccola cesu e tagliasiepi le armi di un giardiniere le armi si ma ci dobbiamo prima equipaggiare per affrontare il maniaco deforme ma soprattutto se non salvo freccia per arco ma non posso salvare qua è dove stavano sven e amy dove l'ha catturato il maniaco non posso rompere quella cassa suo scaffale allora allora di qua no di qua si scende giù e si può salvare niente di interessante qui ho trovato papà era molto ferito avrò cura di lui sogna i fiori adesso nessuno lo toccherà annotazione pagina 3 un altro enigma mi sa troppe robe niente di utile su questi scaffali qua la porta è chiusa giusto? ah è richiuso lì sven oh ma chi ci osserva no non voglio abbassare nulla voglio salvare ok riusciremo si riusciremo a salvare sven lo scopriremo nella prossima puntata e sembra che siamo vicini alla fine comunque e sembra anche che c'entri il maniaco deforme ma è possibile che lui la mente dietro i fiori oscuri fiori neri ma vedremo vedremo voi però come sempre supportate la serie e il canale seguendo il pop up e io adesso vi saluto e ci rivediamo ad un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.